Ciao ragazze, questa è la mia ultima card è fatta in questo modo, quindi c'è questa linguetta che esce fuori e per farla ho seguito un tutorial di Jennifer McGuire le carte sono delle carte da origami sia per i vestitini che per poi lo sfondo e poi degli schizzi con questo colore è spessorata sia la parte del cartoncino bianco che quella del cartoncino marrone quindi c'è un doppio spessore che permette poi anche di far uscire la linguetta spero vi piaccia e alla prossima, ciao!